Sono un morto ambulante di padre Paolo Covino. Nella sacristia del santuario a San Giovanni Rotondo il signor Giuseppe Canaponi due mesi prima di morire mi disse padre sono un morto ambulante ma grazie a padre Pio vivo ancora. Ricordai di aver letto qualcosa al riguardo ma per saperne di più chiesi che mi raccontasse personalmente la sua storia. Il 21 giugno 1946 cominciò mentre andavo in motocicletta fu investito da un camion sulla strada sarteana presso Chiusi in quel di Siena. Trasportato all'ospedale di Sarteano mi riscontrarono la frattura del femore sinistro e commozione cerebrale. Dopo 40 giorni non avendo avuto alcun miglioramento cominciò per me il calvario dell'ospedale da Chiusi a quello di Montepulciano poi a Siena e infine all'ospedale ortopedico di Bologna. Molti dolori, tanta disperazione, nessun risultato positivo. Non potevo camminare ed ero senza lavoro. Mia moglie Gilda aveva sentito parlare di padre Pio come di un uomo di Dio che pregava ed otteneva grazie. Venni a San Giovanni Rotondo con mia moglie e con mio figlio Augusto, di 10 anni, il 26 dicembre 1947. A piedi dal paese al convento con la stampella è il bastone. Che pena quel giorno, non gliela facevo più. Quando arrivai in chiesa, padre Pio stava confessando le donne, mi guardò e subito avvertì come una scossa elettrica che mi dava sollievo. Alle ore 16 mi accostai per confessarmi e mentre ero in ginocchio compresi di trovarmi dinanzi ad un uomo straordinario. Una seconda scossa provocò in me un grande benessere. Il padre alzò gli occhi al cielo, mi dette la soluzione e mi sentì benissimo. Prometti di mutar vita? mi disse. Diversamente a che serve la grazia? Sì, padre, risposi, lo prometto. Baciai la mano. Raccolsi la stampella e il bastone e cominciai a camminare espeditamente. Mia moglie, nel vedermi guarito, mi venne incontro col figlio letto e piangemmo commossi. Ringraziamo il Signore e andammo all'albergo Villa Pia, dove osservammo la scomparsa dei segni delle operazioni. Tornammo a ringraziare padre Pio, il quale ci disse, non l'ho fatta io la grazia, l'ha fatta il Signore. Ringraziate lui. A casa, dove tornai il 31 dicembre, trovai la lettera di licenziamento da parte delle ferrovie dello Stato per inabilità al lavoro. In un congresso internazionale di stomatologia tenutosi a Roma, più di 50 medici, potettero osservare in me ciò che era avvenuto. Rimasero sbalorditi nel vedere le lastre, il ginocchio fuori posto, il femore storto con tessuto calloso intorno alla rotula del ginocchio. Ciò nonostante, camminavo speditamente. Mi hanno osservato anche all'estero e sono stati tutti concordi nel definire prodigioso quanto mi era accaduto. Ecco perché mi ritengo un morto abumlante.